Intel ha annunciato lo sviluppo del primo chip neuromorfico in grado di simulare il funzionamento del cervello umano, l'OEI. Questo è il suo nome, rappresenta un importante traguardo per l'azienda californiana e per l'industria in generale, in quanto il chip può essere sfruttati per eseguire calcoli complessi ad una velocità nettamente superiore a quella offerta dalle attuali CPU e GPU. Intel lavora da circa, sei anni su architetture specializzate che possano offrire prestazioni maggiori rispetto alle piattaforme di calcolo tradizionali. Gli studi relativi al calcolo neuromorfico coinvolge ingegneri, fisici e biologi, le cui competenze hanno permesso di progettare l'OEI, un chip che imita il cervello umano nell'apprendimento basato sull'interazione con l'ambiente circostante. Non è infatti necessario un addestramento preliminare per consentire il riconoscimento di oggetti ed eventi. L'OEI può quindi usare ciò che ha imparato per risolvere in tempo reale problemi mai affrontati.